Buomeriggio amici guardate cosa ho trovato però non posso prendere non si tocca perché è ricindato qua vediamo se si vede le bellissime spugnole qua ce n'è un'altra è pieno guardate qua è pieno e non li posso prendere metrò per l'Ossiemburgo guarda che grossa è questa vediamo se lui riesca a inquadrare bene sono nascoste dall'erba ci saranno 20-30 pezzi di spugnole terreno ricintato purtroppo non si possono raccogliere bellissime poi sabato vado a fare un giro nel bosco e vediamo se li trovo la bocca vi ricordo che questi funghi nascono dai fessini dagli alberi ci sono un'altra bellissima dai amici ciao alla prossima ciao Grazie a tutti.